Musica E' morto Don Pier Giorgio Giorgini, storico parroco di San Cesario di Fano. Pensionato si scontra con una panda e finisce al Torrette di Ancona. Dieci caprette sbranate vive dai lupi, il fatto è accaduto poco lontano da un centro abitato. Al via i Vax Days per gli studenti delle quinte superiori delle Marche, si partirà il 2 giugno e si procederà in ordine alfabetico. Ci sarà anche Sharon Stone a passaggi Festival di Fano, l'attrice produttrice, icona del cinema, sarà in collegamento dagli Stati Uniti. Tra poco l'ultima puntata di Primo Cittadino con Massimo Seri, sindaco di Fano. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti cari telespettatori a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Occhio alla notizia, il titolo d'apertura del nostro sommario, l'avete appena visto e sentito, si riferisce alla morte di un sacerdote, lo storico parroco di San Cesario, Don Pier Giorgio Giorgini. Vediamo il servizio di Filippo Pucci. Si è spento le 5 di questa mattina all'età di 78 anni a causa di un tumore, Don Pier Giorgio Giorgini, storico parroco di San Cesario nella frazione di Carrara. Don Pier Giorgio era nato a Fano il 4 agosto del 1942 ed era stato ordinato presbitero a Sant'Andrea in Villis il 13 giugno del 1968. Dal 30 agosto dello scorso anno era collaboratore parrocchiale di San Cesario dopo l'ingresso del nuovo parroco Don Ivan Bellomari. Dal 1 maggio del 2012 invece diventò consulente etico dell'associazione e del consultorio La Famiglia. Giorgini ha ricoperto diversi ruoli, fra i quali incaricato diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa e delegato dell'ufficio diocesano, sezione pastorale, della scuola e insegnanti di religione cattolica. I funerali saranno celebrati dal vescovo Armando Trasarti giovedì 3 giugno alle 15.30 nella parrocchia di San Cesario a Carrara di Fano. Per Giorgio Giorgini non possiamo non ricordare due battaglie importanti che lo hanno visto protagonista sul campo. La prima è quello contro l'elettromagnetismo, in particolare la centrale elettrica di Carrara di Fano. Poi ce n'è un'altra altrettanto importante, quella ambientale che lo ha visto protagonista sul fronte dei rifiuti tossici scaricati all'ex Cava Solazzi. Allora, per ricordare brevemente la figura di questo sacerdote, ci colleghiamo in diretta con Davide Del Vecchio, ex amministratore del Comune di Fano e amico di Don Pier Giorgio Giorgini. Buonasera, Del Vecchio. Buonasera, buonasera. Allora, dicevamo due battaglie, elettromagnetismo e poi ex Cava Solazzi. Lei in particolare nella battaglia contro lo smaltimento illecito dei rifiuti è stato fianco a fianco con Don Pier Giorgio. Era il 2006? Il nostro paro che si è stato allora straordinario, come lo è stato in tutta la sua vita nella nostra comunità. E allora ha preso le difese di tutti noi cittadini. Quella indagine che era di tanti rifiuti tossici che venivano sversati nella Cava Solazzi, portò a 117 persone indagate, delle quali 14 furono anche arrestate. E lui, Don Pier Giorgio, fu in prima persona in questa battaglia, nonostante i tanti solliciti che gli venivano fatti per tacere o per fermarsi. Sì, quindi da qui ancora di più la sua persona è emersa, la sua figura. Ripeto, sono molto commosso oggi perché è una persona che era molto vicino a me, alla mia famiglia, ma devo dire a tutti i parrocchiani e tutta la comunità. Tra l'altro Don Pier Giorgio lascia all'intera comunità della vostra parrocchia, alla comunità intera, anche un edificio, una struttura, un oratorio di recente costruzione che lui ha finanziato, se non ricordo male, proprio di tasca sua, in gran parte, giusto? Sì, ha fatto una grandissima donazione per Casa Betlem, così si chiama, che è l'oratorio che è stato realizzato da pochissimo a San Cesario e che ospiterà tanti ragazzi, sta venendo utilizzato, salvo Covid, da tante persone. Quindi ha fatto una donazione per cui lo ricorderanno anche per questo motivo nel nostro territorio, ma ha fatto tantissime cose in realtà Don Pier Giorgio. È stata veramente una persona che è una figura importante della curia anche all'interno del nostro territorio. Bene, ricordiamo che il funerale verrà celebrato, come è stato detto giustamente nel servizio, verrà celebrato dal Vescovo Armando, giovedì 3 giugno alle ore 15.30 nella parrocchia di San Cesario a Carrara di Fano. Grazie Davide Del Vecchio per questo contributo, noi andiamo avanti con il nostro giornale. Un incidente, un grave incidente questa mattina ad Apecchio, dove si sono scontrate una Fiat Panda e un'Apecar guidata da un uomo di 67 anni, successo intorno alle 10 al bivio dopo il ponte. Nell'urto il conducente dell'Ape è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, l'uomo, un pensionato del posto, è stato soccorso dal 118, ma viste le sue condizioni è stata allertata l'eliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Sul posto i carabinieri per i lievi di legge. E poi invece a Lucrezia di Cartoceto c'è stato un nuovo attacco da parte dei lupi, è successo sabato scorso alla fattoria Montagna in via Borgognina, dove sono state sbranate 10 caprette e ferite gravemente altre due. Gli animali, di cui uno appena nato e tre di pochi giorni di vita, sono stati azzannati al collo e al ventre. Il fatto è accaduto in un terreno recintato, poco distante dalla superstrada e dal centro abitato. I proprietari hanno sporto denunce e ha allertato il veterinario dell'Asul che ha accertato l'attacco ad opera dei lupi. Sitin di protesta di fronte al centro Alzheimer Margherita a Fano. Associazioni e familiari lanciano un appello al Comune per riaprire il centro, chiuso ormai da un anno. Simona Zunghetti. Qui i problemi continuano. Prima la trascuratezza dei nostri malati, adesso è arrivata fino a noi familiari. C'era stata data tanto tempo fa una sede per noi familiari, per i nostri incontri, per i nostri confronti. Non ce l'abbiamo più, non si sa perché e per come l'abbiamo persa. Chiuso a causa della pandemia, il centro di auto mutuo aiuto è ancora inaccessibile ai familiari dei soggetti in cura al centro Alzheimer Margherita a Fano. Con l'inaugurazione della struttura nel 2014, era stata infatti aperta anche questa piccola sede dedicata non solo alle associazioni, ma anche alle persone che potevano contare su un luogo di ritrovo. Il centro di auto mutuo aiuto era stato donato dalla Fondazione Carifano al Comune, che però non ha ancora risposto ai familiari dopo gli appelli lanciati nelle scorse settimane. Non c'era motivo che i familiari, con tutte le difficoltà che hanno, dovevano venire a manifestare per richiedere un immobile che non è di proprietà della labirinto, però è stato donato proprio alla gestione dell'auto mutuo aiuto, alle gestioni dei familiari. Ma è una sede che utilizzate anche voi come associazione? Sì, veniva poche volte, però venivamo per quanto riguardava l'incontro con i familiari, se c'erano delle problematiche da chiarire. Però non abbiamo mai avuto difficoltà e la sede è stata sempre aperta. Ad appoggiarsi a questa sede da circa due anni c'è anche il gruppo dell'Aimafano, l'associazione italiana malati di Alzheimer, che nel tempo ha svolto diverse attività con le persone affette da questa demenza degenerativa. Sono state fatte delle riunioni anche con i psicologi dell'Azl, in cui si sono fatti dei gruppi molto importanti per i cardiver. e noi vogliamo continuare a lavorare sul territorio, avendo questa sede, come riferimento importante e chiediamo al Comune che ci dia ciò che ci spetta. Ci siamo trovati a discutere delle problematiche a cielo aperto, ha poi aggiunto Lucia Bilancia, che già lo scorso anno aveva portato avanti la battaglia per la riapertura del centro Margherita dopo il primo lockdown. Voglio una risposta da chi è di dovere, perché è successo questo e perché uno deve arrivare così a tanto per essere ascoltato e per ottenere quello che ci appartiene. I familiari li abbiamo messi con i malati, tutto uno scarto, tutto proprio un menefreghismo. Cioè questa società non ci può trattare così. Io non voglio essere trattata come un morto che cammina. Io sono un familiare e lotto ogni giorno con un malato in casa. E non chiedo tanto, chiedo quello che mi è stato donato. E adesso la pagina della pandemia. Sono due i decessi legati al coronavirus, avvenuti nelle ultime 24 ore. Nessuno di questi decessi è avvenuto nella nostra provincia, nella provincia di Peso Rubino, mentre sono 50 le persone positive. Suddivise così 20 ad Ancona, 15 a Peso Rubino, 6 a Scolipiceno, 5 a Macerato, 1 a Fermo e 3 fuori Regione. Al via invece i Vax Day per gli studenti delle Quinte e Superiore delle Marche, che saranno chiamati agli esami di maturità. Dal 2 al 6 giugno tutti i 13.600 maturandi potranno recarsi nei punti vaccinali individuati sul territorio regionale senza bisogno di prenotazione, dalle 8 alle 18.30, secondo il calendario che li suddivide in base all'iniziale del cognome. È un ulteriore passo avanti per l'immunizzazione della popolazione, si legge in una nota, è un segnale che l'amministrazione regionale e l'assessore Saltamartine hanno voluto dare ai giovani. Sabato scorso è stata inaugurata la nuova farmacia nel quartiere di Sant'Orso a Fano. Spazi raddoppiati e servizi in più. Più spazio, più tecnologia e maggiori servizi. La farmacia di Sant'Orso, gestita da Aset S.p.A., si è rinnovata grazie ai lavori di manutenzione straordinaria e di ampliamento appena terminati. Sabato scorso si è svolta la cerimonia di inaugurazione e i nuovi spazi, letteralmente raddoppiati, resteranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 e il sabato fino alle 12.30. Dare questi segni di ripartenza penso che sia la cosa più importante in questo momento. E ci siamo letteralmente buttati a pesce perché forti del fatto che c'era un ottimo rapporto tra la farmacia e il quartiere e in più le potenzialità di questo quartiere, che è sempre più una piccola città, è il quartiere più popoloso di Fano e quindi riteniamo che l'erogazione di determinati servizi sia una priorità che bisogna dare ai cittadini in modo che possano muoversi di meno e avere più servizi sotto casa. In più a questo dobbiamo aggiungere il fatto che la farmacia ormai è diventata sempre più un luogo dove si dispensano servizi e dove si fanno tante altre cose e non solo reperire farmaci. E questo è il secondo motivo per il quale abbiamo creduto in questa organizzazione e in questo allargamento dei locali. Basti pensare alle due nuove sale riservate servizi alla persona, dove saranno allestite delle aree attrezzate per l'autoanalisi. Qui sarà possibile misurare i principali parametri del sangue, via libera poi alla telemedicina che comprende gli elettrocardiogrammi. In programma anche nuove macchine per la cura del corpo e per l'analisi del capello, della pelle e del viso. Inoltre è possibile eseguire prestazioni sanitarie infermieristiche e di consulenza in materia di salute, ad esempio da parte di nutrizionisti o fisioterapisti. Ma non solo nuovi servizi, anche ottimizzazione delle attività, grazie alla nuova apparecchiatura installata nel magazzino sotterraneo. Si tratta di un vero e proprio robot che permette di snellire il lavoro consentendo al personale di dedicarsi completamente al cliente. Rappresenta una bella notizia non solo per il quartiere, ma per tutta la città, perché aumentano e migliorano i servizi per tutta la nostra comunità. E l'inaugurazione oggi segna anche un ulteriore passo, che è quello di estendere e di articolare su tutto il territorio i servizi di farmacia. E in questo caso mi sento anche di ringraziare il personale, il personale delle farmacie comunali, tutte, non solo quelle di Sant'Orso, perché in questo anno così difficile e complesso, in cui abbiamo affrontato la pandemia, hanno rappresentato e rappresentano un presidio importante sul nostro territorio. Un presidio importante che oggi ha la possibilità di poter migliorare le proprie prestazioni. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio lungo la statale Adriatica Sud a Marotta di Mondolfo per l'incendio di Sterpagli al lato della Carreggiata. Il rogo potrebbe essere stato innescato da un mozzicone di sigaretta, gestato incautamente dal finestrino di un'auto in corsa. È prevista a giorni la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto che prevede il passaggio dei comuni di Montecopiole e Sassofeltrio dalle Marche all'Emilia-Romagna. Lo hanno riferito i sindaci dei due comuni al termine dell'incontro con il presidente della provincia di Rimini, che ha consegnato loro una targa di benvenuto. Una festa per ricordare i 35 anni della fondazione del CB Club Mattei, Protezione Civile di Fano, al Codma di Rosciano, presenti tutte le cariche civili, militari e religiosi. Un evento dal duplice obiettivo, celebrare la ricorrenza della fondazione del CB Club Mattei di Fano e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche di protezione civile. Sabato scorso, nell'area del Colma di Rosciano, sono stati festeggiati i 35 anni dell'associazione, dove vede protagonisti uomini e donne, che dal 1986 hanno messo a disposizione il proprio tempo a sostegno delle comunità. 35 anni, non sono pochi, ma non sono neanche tanti, è un bel traguardo, dove all'interno vede oggi componenti di radiocomunicazioni, cucina, logistica, segreteria, unità cinofile, soccorso in mare, in pratica tutte queste peculiarità che man mano sono cresciute all'interno della nostra associazione. Siamo oramai 110 volontari, quasi tutti attivi, e il nostro compito è quello di mettersi a disposizione qualora i vigi del fuoco, piuttosto che la polizia locale, piuttosto che i carabinieri o altri, hanno la necessità di più braccia e questo il volontariato è chiamato a fare questo. Ma per fare questo bisogna che sia formato, bisogna che sia pronto, non si può improvvisare, e questo implica negli anni sempre formazione, formazione, esercitazione e formazione. Sul palco il presidente Saverio Livi ha sottolineato l'importanza dei volontari e ha ripercorso la storia del Club Mattei, diventata nel corso degli anni fiore all'occhiello sia della città che a livello regionale e nazionale. Momento toccante della cerimonia, la consegna della medaglia d'oro dall'amministrazione comunale. La giornata è stata anche l'occasione per inaugurare i nuovi spazi dell'area formativa. Sono 600 metri di struttura che la Regione Marche ha messo a bando due anni fa e noi ce le siamo giudicate con un bando, quindi paghiamo un affitto annuale. E questa struttura, che è composta da un'aula da 160 posti, una da 50 posti, una da 60 posti e 8 uffici, l'abbiamo messa a disposizione di tutto il mondo della protezione civile, sia a livello nazionale, regionale, provinciale, locale, qualora necessiti un'area per fare formazione, è a disposizione di tutti. Negli spazi verdi antistanti il centro ortofrutticolo erano presenti diversi stand delle forze di polizia e altre realtà che collaborano a stretto contatto con la protezione civile. Presenti anche le cariche religiose e civili, tra cui il nuovo prefetto Tommaso Ricciardi. Sapere che in caso di emergenze, di calamità e quant'altro, poter contare su persone che sotto il profilo formativo e professionale sono così preparate, non può essere che una lieta sorpresa. 35 anni al servizio delle persone, dal terremoto alle alluvioni, fino alle allerte meteo-neve e non per ultimo l'evacuazione durante il rinvenimento dell'Ordigno Bellico in zona Sassonia-Afano ed infine l'emergenza sanitaria. Per me è un orgoglio, è una soddisfazione ed è il modo per dire grazie a nome di tutta la città a tutte le donne e gli uomini dell'Associazione Ricco Mattei della protezione civile di Fano. Saverio Livi, che avete appena visto nell'intervista, è stato riconfermato a rappresentare per altri cinque anni tutte le associazioni di protezione civile all'interno del sistema regionale. Ieri si sono svolte le elezioni alla presenza di oltre 300 presidenti e coordinatori. Per la provincia di Peso Urbino sono stati eletti Odeico Melini per i gruppi comunali e Alessandro Capucci per le associazioni. Grande gesto di solidarietà del fanese Cristian Buzzelli, che dopo aver venduto oltre mille copie del suo libro dedicato al giro della Sardegna in bici senza soldi, ha donato l'intero ricavato all'Associazione Maruzza. Aveva racchiuso le sue avventure in un diario di viaggio arricchito da foto, suggerimenti e lezioni di vita e oggi, dopo aver venduto mille copie del libro Missione Sardegna al giro della Sardegna in bici senza soldi, ha donato l'intero ricavato di oltre 4.600 euro all'Associazione Maruzza Regione Marcheollus, che sostiene le cure palliative pediatriche. Una scelta che è andata così a realizzare la promessa fatta da Cristian alla mamma Ornella quando era in fin di vita, quella di portare nel mondo i suoi insegnamenti, sorridere sempre, anche se va tutto storto, rispettare gli altri e aiutare il prossimo. Se questo progetto è andato a buon fine, è grazie alle persone che hanno avuto un cuore grandissimo. È regalo nel regalo, perché tutti quelli che l'hanno letto, perché poi qualcuno l'ha comprato anche per aiutare l'Associazione, ma tutti quelli che l'hanno letto, la cosa bella è che il viaggio nel viaggio, grazie a questi post-it che sono all'interno del libro, grazie a queste pillole di saggezza che ogni giorno, ogni sfida che superavo, mettevo alla fine di ogni capitolo, hanno aiutato queste persone a spronarsi un po' nella vita e a osare un po' di più. Questo era un po' lo scopo dei messaggi che volevamo andare. Presenti alla consegna anche i consiglieri regionali Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle, Luca Serfilippi della Lega, che attraverso delle mozioni chiederanno l'istituzione nella provincia pesarese di un centro di cure pagliative pediatriche. a lanciare un appello è anche il segretario generale della Fondazione Maruzza. Non è soltanto la Regione Marche, ahimè, in cui manca un centro. Infatti sono molto molto felice perché la Regione Marche mi sembra che si stia muovendo nella maniera e nel modo giusto. Sono 35.000 i bambini ogni anno in Italia che avrebbero bisogno di cure pagliative specifiche per la loro età e purtroppo soltanto il 5% più o meno ne può usufruire. E questo è un grosso problema perché ci sono famiglie che si trovano disperate perché devono magari lasciare il lavoro, seguire il loro figlio nelle strutture esistenti tipo l'Hospice Pediatrico di Padova, piuttosto che a Genova, piuttosto al Gaslini di Genova. Sono pochissime le strutture adesso che sono in grado di accogliere questi bambini e le loro famiglie. E oltre all'aumento della mobilità passiva la mancanza di un centro provoca forti disagi dal punto di vista economico ed emotivo fino ai problemi di coppia. Io ringrazio con tutto il cuore a nome dell'Associazione Maruzza Marche l'amico Cristian Buzzelli per questo pensiero favoloso che ha avuto perché questi soldi andranno per fare dei corsi di formazione per medici e infermieri per assistere questi bambini sfortunati a casa. Fanno alla città dei bambini e delle bambine. Noi ci muoviamo per i più sfortunati, per quelli che hanno bisogno di cure e quindi come ha scritto un bambino a casa è più meglio noi cerchiamo di assistere a casa il più possibile a questi bambini nelle fasi acute del dolore. Ora Buzzelli dopo aver trascorso gli ultimi cinque mesi in Sicilia dove ha svolto un'esperienza di volontariato in un centro diurno per bambini e ragazzi disagiati senza famiglia si prepara al suo prossimo viaggio. Purtroppo è saltato quello che avevo promesso Italia, Francia, Spagna, Portogallo senza soldi è saltato mi è arrivato un progetto meraviglioso. Ripartiamo il 2021, partiamo il 14 giugno da Milano e faremo da Milano a Palermo faremo una raccolta fondi per le pediatrie d'Italia toccheremo 20 ospedali dove il primario che è con me farà delle formazioni a questi dottori e noi facciamo questa raccolta fondi che doneriamo a queste associazioni per ogni città un ospedale quindi sarà un mese meraviglioso e sarà tutto documentato come sempre nei canali sarà bellissimo. Un'altra stella di Hollywood brilla tra gli ospiti di Passaggi Festival dopo Oliver Stone che ha aperto la manifestazione lo scorso anno l'evento dedicato alla saggistica in calendario a Fano del 18 al 25 giugno ha aggiunto al programma un nuovo incontro di rilevanza internazionale si tratta dell'appuntamento con Sharon Stone attrice e produttrice, mito del cinema mondiale che lunedì 21 giugno alle ore 21 sarà in collegamento video da Los Angeles intervistata dalla giornalista Silvia Bizio anche lei in collegamento dalla città californiana e dal critico cinematografico Paolo Merighetti che sarà insieme al direttore del festival Giovanni Belfiori sul palco di piazza 20 Settembre da dove sarà trasmesso l'evento subito dopo di noi le previsioni del tempo poi l'ultima puntata di questa stagione di primo cittadino con il sindaco di Fano Massimo Seri dunque restate con noi e tra poco ci rivedremo in diretta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti